Potete uccidere e farla franca senza conseguenze. È stata uccisa da studenti di questa classe. Che cosa vuole insinuare? L'ho già usata una volta come cavia. E vedere alla polizia esattamente che cosa è successo. Ti scemo molto meglio! Alza, ti scemo! Tu non hai paura. Andai anche a parlarne col preside. Ma le mie paure furono liquidate con una risata. Fu allora che senti, per la prima volta, il suono di qualcosa di importante che sparisce per sempre. Se sei determinato a vendicarti, se vuoi davvero uccidere qualcuno, non dici cosa del genere. Zitta! C'è nessuno che vuoi uccidere? C'è nessuno che vuoi uccidere? Eai nessuno che vuoi uccidere! N autant è un po' pupilla. Nascono! Una 23, di tipologia. Poi! Le much dicono di ricche. Così! Grazie a tutti.